Roll giù il tallone al 90 gradi per un quadro su di nuovo il tallone, roll back un attimo e poi giù terza fase, lift, sempre dalla stessa parte roll, giù il tallone, side kick through e ritorno allo stesso modo lift, roll e aspetto ad andare giù con la mano giù dall'altra parte lift stop giù lift roll giù il tallone, mi guardo con i nostri dati ritorno lift giù di nuovo lift roll giù il tallone side kick through roll lift roll aspetto giù giù aspetto aspetto